è bello, avete anche appunto una bella voce, cantate, fate delle belle cose e quindi è giusto che ce le fate sentire e che ci dite che cosa fate di bello oh ragazze Rafa, io veramente, un'introduzione così fantastica non l'avevamo mai grazie mille quando abbiamo saputo di questo invito per venire questa sera comunque a festeggiare insieme a voi questa iniziativa bellissima direi di poter organizzare comunque questa piazza stupenda un momento musicale per restare in compagnia comunque divertirsi è splendido più che altro per la musica